amici di atti sport ventiquattro bentornati in nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino iniziamo ad orientarci verso la parte conclusiva della seconda giornata di Serie A1 maschile che ha già disputato gli anticipi per le squadre impegnate nelle coppe andiamo in casa della De Hacker Bologna e per farlo torna a trovarci l'universale della formazione felsinia Cristian Milakovic ciao Cristian bentornato un piacere riaverti nostro ospite ciao Andrea ciao a tutti e grazie per avervi Cristian io inizio la nostra chiacchierata partendo dal vostro esordio in campionato la De Hacker firma l'impresa del primo turno impatta sul 12 a 12 in casa del circolo canottieri Ortigia in un match nel quale è vero che la formazione Aretusea giocava senza una delle sue principali bocche da fuoco Yusuke Inaba ma nel quale comunque voi avete sfoderato una prova maiuscola siete stati capaci di recuperare dal 2-7 del primo tempo e avete tenuto botta fino in fondo recuperando poi un altro meno tre nel parziale conclusivo quali indicazioni positive vi ha lasciato questo debutto in campionato? Sì ma tante positive ma sappiamo ancora che c'è tanto da lavorare soprattutto come entriamo in gara che è 7 a 2 poi dopo a recuperare bisogna vedere se ce la riusciamo a fare di nuovo comunque la cosa positiva è dopo 7 a 2 che non ci stiamo disuniti e l'anno scorso magari potrebbe finire 15 a 5 quindi dal 7 a 2 ci abbiamo fatto vedere che questa squadra ha un certo carattere in che misura il prestigioso risultato ottenuto alla Paolo Caldarella aiuta la crescita di un gruppo che numeri alla mano è radicalmente cambiato rispetto alla scorso anno sono arrivati diversi giocatori di grande leadership ed esperienza ma anche numerosi giovani promettenti che saranno la linfa vitale della The Hacker del futuro. Sì, comunque rispetto alla scorso siamo solamente i quattro quindi la squadra è abbastanza nuova e c'è ancora tanto da lavorare. Un punto là guadagnato è una gran cosa perché non so vedremo quante nostre diretti avversarie riescono a fare punti sia che contro la Siracusa quindi prendiamoci sto punto e guardiamo avanti Avrete sicuramente avuto modo di commentare il risultato con il vostro mister cosa vi ha detto Federico Mestrangelo alla fine del match? La fine del match era contento ovviamente perché siamo riusciti a rientrare dopo 7 a 2 poi il giorno dopo ha detto però mi piacerebbe che magari iniziamo a giocare subito dal 0 a 0 invece che dopo un parziale così però stasera vediamo il video quindi sapremo meglio cosa non è andato bene Certo avrete sicuramente modo di rivalutare la vostra prestazione credo sia come dici tu negli aspetti negativi che in quelli positivi perché comunque ripeto avete dimostrato di poter essere di avere tutte le carte regola per poter essere una vera e propria mina vagante di questo torneo così particolare a che punto è arrivato il lavoro di preparazione di una squadra che sta lavorando da direi quasi due mesi perché forse siete stati tra i primi a dare il via alla stagione vado a memoria il 16 di agosto Sì il 16 di agosto ci sono partiti loro poi Steven Cavalleri e io ci siamo aggiunti dopo perché eravamo a Malta a giocare il campionato estivo e noi siamo arrivati al 1 di settembre Per ora dal punto di vista fisicamente stiamo bene ma visto la nostra tutoressenza e noi due siamo un po' ancora tatticamente stiamo indietro però mister era pronto per un tipo di preparazione così E' in archivio il risultato della prima adesso la concentrazione si sposta già su quello che sarà l'esordio casalingo del prossimo turno Sabato alla Carmen Longo c'è la Noto Catania formazione che ha scelto anche essa di rinnovare radicalmente la sua rosa e di ringiovanirla E' composta da tanti ragazzi vogliosi di mettersi in mostra e che hanno fame di arrivare in alto Voi avrete ovviamente voglia di confermarvi per far sì che il pareggio rimediato a Siracusa non sia solo un lampo nel deserto Ti chiedo che partita ci aspettiamo dopo tutte le premesse che ho elencato Noi cerchiamo i tre punti ovviamente Noi partiamo da favoriti ovviamente giochiamo in casa Prima in casa e vogliamo farci vedere dai nostri tifosi ovviamente senza i tre punti a sabato questo punto ottenuto a Siracusa Non significa Non significa tanto Ovviamente a sabato non sarà facile Si sono una squadra abbastanza giovane però appunto per quello loro venendo qua non hanno niente da perdere Quindi saranno sicuramente più ecolosi e se noi non facciamo il cento per cento Delle nostre possibilità non credo che facciamo risultati Certo Dove credi che si potrà decidere questo match tra due squadre che comunque come obiettivo di partenza hanno la salvezza? Voi magari volete provare ad agguantarla il prima possibile per avere poi la chance di poter iniziare ad alzare gli occhi e dire La 1 per l'anno prossimo al sicuro vediamo fin dove siamo capaci di spingerci Esatto Ma questo andiamo con il mister Noi sicuramente cercheremo di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo Poi dalla tattica alla sua mister che fa lui Chiudiamo con un'ultima battuta Siete all'esordio davanti ai vostri sostenitori Ti lascio a campo libero Puoi fare un appello ai supporter della The Hacker Cosa vuoi dirgli? Ovviamente speriamo di vederli numerosi in tribuna Perché l'anno scorso a Carmelongo era nostro proprio Praticamente tutti i punti che abbiamo fatto li abbiamo fatti là E quindi è un nostro vero punto di forza La nostra piscina ovviamente con i nostri tifosi Quindi spero di vederli proprio numerosi Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata Io ringrazio Christian Milakovic per averci fatto compagnia E do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata Ciao Christian, grazie mille Ciao e grazie a te